Bella a tutti ragazzi, per il vostro Xcogna che vi parla ed oggi vi presento uno dei progetti su cui sono più bullish in assoluto. Uscirà a giugno 2022, massimo entro fine estate, ma quello che andrete a vedere in questo video secondo me è una cosa gigantesca. Una rivoluzione all'interno di questo settore e andremo a vedere e ad analizzare il perché, perché è sempre importantissimo capire le motivazioni dietro a queste affermazioni. Prima di ricordarvi che non sono un consulente finanziario, questo non vuol dire che io abbia abbandonato Eversid, il video è sul mio canale YouTube, sto continuando a comprarne perché secondo me il team è pazzesco, sta costruendo davvero delle cose molto importanti. E ora che il prezzo di Solana è basso e che le persone per noia stanno vendendo, io personalmente sto accumulando piano piano sempre più NFT perché secondo me ha un potenziale incredibile. Oltre che anche il gioco Eternal Dragons, sono riuscito a prendere la whitelist grazie all'ultimo video che ho pubblicato dei top 2 giochi, ma comunque continuerò a portarvi contenuti perché appunto non vi avevo fatto il video solo per la whitelist, anzi perché proprio credo nel progetto e non solo comprerò ciò che mi viene concesso tramite la whitelist, ma comprerò probabilmente anche nel mercato secondario. Perché in questi progetti davvero credo molto, soprattutto per l'ambizione che ha il team, per l'esperienza che ha il team nel settore dei videogiochi. Ma adesso vi ricordo che non sono un consulente finanziario, che queste sono tutte mie opinioni, potrebbero esplodere tutti i tre i giochi in maniera incredibile oppure esplodere in maniera negativa e quindi perdere i propri soldi. Quindi fate sempre le vostre valutazioni, dovete sempre investire ciò che vi potete permettere di perdere e fare le vostre ricerche e le vostre considerazioni. Mi raccomando, fornicione in alto, iscrizione al canale, campanella attiva al vostro non consulente finanziario preferito. Partiamo finalmente con l'analisi di Azra Games. Azra Games non è un progetto play to earn, Azra Games è uno studio, un game studio che poi farà progetti. Vi faccio vedere subito il progetto che sarà in uscita, Arcanas. Io sono veramente in hype, il concept è fighissimo e soprattutto so che lo sviluppano loro, quindi lo faranno in maniera eccezionale. Ma arriviamo al punto, poi vediamo tutti i dettagli. A giugno, luglio, agosto, adesso ancora deve essere annunciato l'uscita della Genesis Collection. Dovete rimanere sintonizzati sul loro Discord, che sono molto precisi. E ci sarà appunto questo Mint, che sarà un Play Forever Pass, ovvero che ci permetterà, se lo abbiamo, di avere ricompense in ogni gioco che rilasciano. Perché siamo insomma i primi ad aver creduto in questo progetto e quindi loro ci ricompensano in questo modo. Ci sarà anche la possibilità di fare lo staking, quindi dopo che avremo comprato il nostro NFT, metterlo in staking e ricevere le ricompense. Anche questo per premiare e per farci tenere gli NFT. Cosa molto importante secondo me è che loro non hanno bisogno di soldi, quindi di solito cosa fanno i progetti? I progetti vendono una linea di NFT per autofinanziarsi. Sì, e questo insomma può far capire che non ci sono stati dei grossi investimenti dietro. Mentre in questo caso loro non hanno bisogno di finanziamenti, sono riuscito a contattare il team e hanno un'esperienza incredibile, che andremo a vedere e soprattutto una visione nel medio-lungo termine spaventosa. Quindi per me è assolutamente un no-brainer. Anche qui, bello, non fanno giochini, non hanno mezzi termini, credono nel prendersi il tempo di fare esperienze di qualità e che siano perfette. Creare sistemi ed economie che riusciranno ad essere sostenibili negli anni a venire. I ragazzi si stanno dotando di un team che davvero ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Hanno una roadmap dove appunto c'è la whitelist pre-sale. Non amo questa cosa che è 00.02, probabilmente è Q2. Però mi piace più quando è scritto Q2 perché entro giugno faranno queste cose qui, presumibilmente. Perché appunto la whitelist sale e la public sale saranno a giugno. Ora, il prezzo se cercate su Discord sarà uguale, anche questo è molto trasparente. Cioè, chi potrà solo comprare in public, se è veloce, comprerà allo stesso prezzo di chi ha comprato in whitelist. Quindi non è proprio necessario avere la whitelist, è una sicurezza in più. Però se si rimane sintonizzati con questo progetto, probabilmente ci saranno 2000 pezzi in public sale su 5000. Quindi è anche una buona allocazione per il pubblico che avrà lo stesso identico costo. Quindi sarà come averlo preso in whitelist, sinceramente proverò a comprare anche in public. Poi il prezzo deve essere ancora annunciato, terrò tutto sotto controllo. Probabilmente la blockchain sarà solana, ma io sono molto interessato. Tra l'altro hanno detto, e dopo vediamo anche il Twitter, che il loro trailer viene fatto da esperti che hanno speso più di 300.000 dollari per fare questo trailer. Quindi molto interessante. Avremo l'anno prossimo il trailer del gioco e, insomma, metà 2023 il lancio del gioco ufficiale. Però io sono qui per fare già nel Q3 lo staking e tenere tutto. Accumulerò proprio senza vergogna NFT, che sono anche molto belli esteticamente, sostenibili. Poi, come al solito, sono solo mie opinioni. Fate le vostre ricerche. Ecco, Marco Tero diciamo che è il fondatore di Azra Games. E semplicemente come piccole esperienze è stato general manager di EA Capital Games. Per chi conoscesse questo logo, forse sa i giochi che ha fatto questo studio. Star Wars Galaxy of Heroes, che ha generato miliardi in profitti. E, insomma, ha fatto delle cose incredibili. Click Nation, che poi ha venduto ad Electronic Arts. Quindi è una persona, insomma, con un po' di esperienza, diciamolo. E loro puntano ad essere leader nel settore play to earn, play and earn. Perché anche qui dovremmo un po' sfatare il mito di play to earn, che non è gioca per guadagnare, ma è gioca perché ti diverti e poi guadagni anche. Poi qua sono super trasparenti, ci mettono la faccia. Se cliccate sulle loro immagini, trovate i loro profili LinkedIn con tutte le loro esperienze che hanno fatto. E sono delle persone veramente tanto esperte. Però mi raccomando, controllate anche voi, step by step, ogni foto, ogni persona. E, come vedete, riuscire ad avere la whitelist probabilmente ci darà anche possibilità di poter mintare il loro token ufficiale ad un costo inferiore rispetto al pubblico. Quindi tanti vantaggi. Che se si crede nel progetto, conviene. Se si crede nel team, conviene. Altrimenti ci si fa da parte e non c'è nulla di male. Questo ragazzi è il loro Twitter. Tra l'altro collaborano con uno dei migliori influencer per quanto riguarda la blockchain di Solana. E anche questo è un ottimo segnale. Come vedete hanno uno studio dal vivo dove appunto lavorano effettivamente. Quindi non lavorano neanche in remoto, sono proprio un team. Anche questo fa capire l'investimento che ci mettono. Cioè non è qualcosa per fare un mese di progetto e poi sparire. Ma è proprio per rimanere nel corso degli anni. Come vedete anche queste cose secondo me sono incredibili. Significano davvero tanto. Sembra scontato, sembra una cosa normale. Ma non tutti i team hanno questo genere di interazioni. E quando tu con il tuo team hai queste ambizioni, hai questo rapporto. Allora secondo me vuol dire che puoi andare lontano. E che se c'è qualcuno che deve andare lontano, allora è questo progetto. Ora ragazzi il mio consiglio è fare un salto sul Discord. Mi raccomando è ancora sotto i 10.000 membri. Tra qualche mese secondo me vedremo dei numeri totalmente diversi. Ci sono gli official link. Mi raccomando cliccate solo questi. Non cercate cose esterne. Se vi contatta qualcuno che non è ufficiale, non rispondete. Non premete link. Non ci saranno mint nascosti. Lo spiegheranno e lo faranno vedere negli annunci. Quindi rimanete sintonizzati sotto questo aspetto. Guardatevi il team con tutti i link che hanno. Fate un giro. Vincete la whitelist perché ne vale la pena. Poi la vincete e non la volete spendere. Scrivetemi su Instagram. Perché io sono molto molto interessato. E proverò anch'io a vincerla a tutti i costi. Ragazzi questa era una piccola analisi. Per tenervi aggiornati ed essere trasparente. Sui progetti che seguo e che mi piacciono davvero tanto. Perché non voglio essere quella persona. Non mi piace neanche definirmi influencer. Ma quella persona che un progetto ha successo e salta su dopo dicendo Ah eh l'avevo comprato. Perché ricordatevi anche che vari influencer magari comprano dieci progetti e non lo dicono. Poi nove falliscono e non ci fanno il video sopra. E uno gli riesce e si mostrano come dei fenomeni. Io sono trasparente. Tutto quello in cui investo ve lo riporto qui su YouTube. Le cose positive. Le cose negative. Voi siete sempre voi a dover fare le vostre valutazioni. Ci tengo davvero tanto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se lo terrete d'occhio o se avete dei progetti interessanti secondo voi a livello di team. Che possono essere validi. Fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un mi piace. L'iscrizione. La campanella attiva per il vostro non consulente finanziario preferito. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Nel prossimo progetto. State al sicuro là fuori perché ci sono molti scammer ma ci sono anche molti progetti come questi che rimarranno negli anni a venire. Ci rivediamo al prossimo video. XCogna vi saluta.